Senza l'eticale, eh? Uno per posto, va bene? Va bene. L'avevo chiesto prima io. Sì, no, però tutti e due, insieme, uno per posto, va bene? Va bene, allora inizio io, va bene? Inizia lui. Ecco, ci troviamo in un bellissimo locale di Roma con un grandissimo personaggio. Mi dai anche il bacino? Sì. Graziano Salvatori, uno degli imitatori del TGX di Magalli. Sì. E come hai iniziato? Rivivici un po' le tappe della tua carriera. Tu che a questo punto sei diventato uno tra i personaggi più in dello spettacolo italiano in questo momento. No, no. Sicuramente sei i tre più famosi, Graziano, dai. Uno tra i più in mi piacerebbe molto essere come una signorina che mi sta in questo momento guardando, che è la signorina Rinaldi che mi sta facendo così come dire, ma chi è in... Ecco, la vogliamo chiamare la signoria Rinaldi? Vieni, vieni, vieni Nadia. La protagonista di Faccione, il film con Christian De Siga. Ecco, si guarda. Buonasera, signorina Nadia. Come dicevo? Io ho iniziato, Nadia, ho iniziato come così, a scuola, facendo le imitazioni, facendo sempre il pazzo, facendo sempre il pazzo in qua, fatti vedere, facendo sempre il pazzo. E poi piano piano ho cominciato a fare gli spettacoli. Poi ho fatto stasera in butto, è andata bene, sono andato in finale, su un nove sono arrivato nono, perché arrivare primo sarebbe stato un'inutile dimostrazione. Allora ho detto voglio arrivare ultimo. Poi ho fatto ciao, ho fatto ricomincio da due con Raffaella Carrà, il TGX estivo con Michele Mirabella e poi ciao weekend con Giancarlo Magallia del Parisi. Visto che sei qui, Nadia, tu come hai iniziato invece? Io ho iniziato con Proietti, ho fatto due anni di scuola di recitazione, poi ho fatto il film di Christian De Siga. Ciao! E da lì ho iniziato tutto. E da lì ho iniziato tutto, poi ho fatto crack, ho fatto... quando eravamo repressi, ho fatto pronto soccorso, adesso ho finito di girare anni 90, poi ci sono altre cose in programma. Certo, ci sono altre cose, io lo so. Che stai? Eh lo so, lo so, buona, buona. So tutto io! Ecco, ritornando a Graziano, diciamo che Graziano Salvatori è tra gli undici imitatori del TGX di Magalli, è quello meno imitatore. Perché tu dal cabaret sei passato, visto che sei un cabarettista, perché sei passato all'imitazione? Beh, ragazzi, lì volevano gli imitatori. Che non tocca fare per mangiare in pratica. Eh, insomma, sì, però mi diverto a fare anche le imitazioni, mi diverto più a fare il cabaret, però mi diverto anche a fare le imitazioni. Un pacco, tra le varie imitazioni che fai, qual è il personaggio che più ami, a cui più sei legato? Marusca. Ecco, come ti sei sentito nei panni di una donna? Bene, stupida. No, benissimo, il discorso è che Marusca non è neanche un'imitazione, è un personaggio di cabaret creato, quindi inserendolo nelle imitazioni mi è piaciuto moltissimo, perché praticamente è il mio lavoro fare del cabaret. Ecco, progetti per il futuro, questa domanda vale sia per te che per Nadia. Progetti per il futuro per me spero molti e positivi, è presto per parlarne. Nadia? Progetti per il futuro, spero di trovare un uomo fuori la parte...